Il padrino, serpico, quel pomeriggio di un giorno da cani e ora un attimo una vita. Voglio solo stare con qualcuno, tutto qui. Un personaggio magnetico, idolatrato ma solo. Si muove in un mondo tutto suo, stimolato dalla catastrofe, corteggiato dalla morte e dalle donne. Vive per l'attimo fuggente. E non ti voglio spaventare o cose del genere. Ma io trovo te irresistibile. Liliana, una donna con gli istinti e i capricci di una bambina. E una saggezza molto più grande della sua età. Bella, misteriosa, illusoria. Scrivi i biglietti e corri il rischio. Tutto diventa più dolce se si rischia. Rischio un... Potrà mai essere presa. Alpa Sino. Marte Keller. Un uomo che vive di pericolo. Una donna che vive di segreti. Anni Dupurei. Mi dispiace. E qualcuno... Mio Dio. Sa la verità. Un attimo o una vita è incontrare qualcuno. Dire addio a qualcuno... E trovare se stessi. E trovare se stessi. E trovare se stessi. E trovare se stessi. Grazie a tutti.